Salve a tutti i maledetti! Sì, me l'avete chiesto in tantissimo ed è proprio così. Questo fine settimana, dal 2 al 4 giugno, sarò all'Etna Comics, a Catania. Saranno dei giorni di fuoco perché arriverò dall'ultima tappa di stand-up comedy con Karim, proprio questo 31 a Bari. In descrizione troverete il link per i biglietti rimasti intanto, eh. Quindi se mi vedrete vagare senza meta e con sguardo spento per la fiera, ecco, lasciate correre. Comunque ora vi dirò la lista di tutti i miei impegni all'Etna Comics che si svolgeranno nella YouTube Alley. Allora, venerdì 2 giugno, alle 11 l'arte del cosplay, cioè la singola mia conferenza top di gamma, che se vi perdete siete dei paperini rari. Alle 16 Movie Fight con Federico Frusciante, Maurizio Merluzzo e Tyler Strike. Sabato 3 giugno, solo alle 17, il rapporto incestuoso tra cinema e fumetto con anche Dario Moccia e Federico Frusciante. E infine domenica 4 giugno, alle 12, due approcci diversi alla produzione su YouTube con Blink46 e Tyler Strikes. E alle 16 un altro Movie Fight con Federico Frusciante, Tyler Strikes ed Alvise. Quindi, vedete di seguirmi su Instagram, dove vi terrò aggiornati della mia sanità mentale tramite le storie. E se siete siciliani, venite a Catania, all'Etna Comics, a farmi della compagnia, dato che il mio psichiatra ha detto che ho bisogno di affetto e di fritti. Tanto affetto e tanti fritti. Bene, ci vediamo a Catania, all'Etna Comics o a Bari, per i fortunati che verranno a vedermi a teatro. Bella a tutti, satemi discretamente bene. Il vostro, di Klaib.